Supponiamo di avere una serie di oggetti che fanno parte del nostro dominio e che quindi saranno tutti quanti rappresentati mediante dei funtori. E così via. Supponiamo di volerle in qualche maniera avere una struttura che ce li possa rappresentare tutti quanti, perché abbiamo bisogno di fare dei ragionamenti su tutta questa quantità di oggetti. Beh, una cosa che potremmo fare è per esempio concepire un funtore lista che in qualche maniera li raccolga tutti come argomenti ed è certamente l'intuizione, la prima intuizione da cui possiamo partire. Ma avremo subito da che fare con un problemino, il fatto che questo sì sarebbe un funtore ma non sapremmo di che arità definirlo in quanto che appunto a seconda del numero di oggetti che fanno parte di questa sequenza, di questo insieme, però sarebbe un insieme ma se lo leggiamo da sinistra verso destra diventa una successione, una sequenza di oggetti. Ebbene, dicevo, questo funtore lista non sapremmo con quale arità definirlo, a meno che non facciamo una cosa. Pensiamo di concepirlo con soli due argomenti. Il primo argomento è essere la testa della lista e il secondo argomento è essere la coda della lista. Adesso scrivo il maiuscolo per cercare di spiegare il concetto. Possiamo rappresentare una lista di termini, che è stato stesso un termine, come un funtore che ha due argomenti. Nel primo argomento mettiamo il primo elemento della lista e nel secondo argomento mettiamo la lista. Quindi se esistessero i tipi, ma ovviamente non esistono, sarebbero due tipi diversi. Il primo è un elemento della lista e il secondo è una lista di elementi di quel tipo. Quindi nel nostro esempio Il concetto sarebbe questo qui. Però a questo punto, questa lista qua dentro, a sua volta, dovrebbe avere una testa e una coda. A questo punto, anche questa lista più interna dovrebbe avere questa testa e una coda. E poi anche la lista che inizia col gatto dovrebbe avere una coda. E alla fine abbiamo la lista che ha come testa radice di 25 qui, che sarebbe solo una lista. E non avrebbe, quindi, farebbe un'eccezione, perché sarebbe un funtore che ha due soli argomenti. E un solo argomento. E allora in realtà questo quindi non si può fare. Quindi radice non sarebbe omogeneo. Radice di 25, a sua volta, che è un solo elemento, lo possiamo considerare come una lista di due argomenti. La testa, che ha radice di 25, e una coda, che la possiamo definire lista vuota. Cioè una lista che non ha argomenti. E sostanzialmente questo è il modo in cui in Prolog si rappresenta la struttura data che è più utilizzata in assoluto per rappresentare oggetti che sono le liste. Solo che, innanzitutto, ovviamente, c'è un funtore standard per rappresentare lista che è il punto. E poi la lista vuota anche ha un identificatore standard che è NIL. Quindi questo modo di rappresentare le liste è sostanzialmente standard del Prolog. E quindi abbiamo qui un termine, una struttura, che ha come funtore principale questo punto. A sinistra c'è Aldo e a destra c'è tutta questa lista qui. Che a sua volta avrà come funtore principale questo, che a sinistra c'è questo elemento, padre di Aldo, e a destra c'è tutta questa lista qui. E così via. Fino ad arrivare a questa lista qui interna, che avrà come funtore principale questo punto, e a sinistra avrà questo figlio e a destra avrà come figlio la lista vuota. Dunque, questo sarebbe un modo un po' complicato comunque per rappresentare le liste. In realtà in Prolog quello che si fa è utilizzare la parentesi quadrata. Una coppia di parentesi quadrate rappresenta una lista. La lista vuota viene rappresentata così, con una coppia di parentesi quadrate senza nulla dentro. Questo sarebbe cioè il nil. Che differenza c'è? E chiaramente questa è una cosiddetta sintassi sugar, cioè una sintassi semplificata per questa struttura qui. Però è importante ricordarci che qui la struttura lista è costituita a partire da un funtore particolare, che è il punto che ha due soli argomenti. Il primo è un elemento della lista, la testa, e il secondo è il resto della lista. Questo è importante ricordarselo perché sempre come notazione semplificata si può rappresentare una lista in questa maniera. Adesso faremo degli esercizi che illustreranno questi concetti e poi vedremo i predicati fondamentali, alcuni di quali sono built-in in tutti i prologue standard, che servono per gestire le liste. Dicevo, si può rappresentare una lista in questa maniera anche, utilizzando la barra verticale per distinguere la testa dalla coda. la testa mescerà, in questo caso è una variabile, mescerà con l'elemento, che è il primo elemento della lista, e la coda, anche qui vedete che è una variabile, mescerà con il resto della lista. Allora, quindi, ricapitolando, torniamo dal professor Bratko. Noi abbiamo, per esempio, questa qui è una lista composta di quattro elementi, A, B, C e D. Questa è la lista vuota, questa è un'altra lista che contiene ancora quattro elementi, questa pure ne contiene tre, e questa ne contiene uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei elementi. Fra l'altro, qui vedete la lista vuota, in generale, è questa stessa un oggetto. E come ho detto poco fa, se noi, per esempio, possiamo rappresentare una lista, come abbiamo appena visto, e la A, cioè, questo serve il primo elemento, questa è la coda della lista. E dicevo, possiamo anche rappresentare la lista in quest'altra maniera. Quindi, per esempio, se io scrivo Head and Tail uguale A, B, C, D e Head viene unificato con A mentre Tail, che è la coda, viene unificata con una lista che ha come primo elemento B e poi C e poi D. Quindi, io l'ho detto in partenza, A, B, C, D non è altro che un modo comodo per rappresentare questa lista qui. Che ovviamente potremmo usare anche questa, perché è quella originaria del prologue, ma non è conveniente perché è facile confondersi con la lista, con la notazione, con il punto. Vediamo adesso alcuni predicati fondamentali per lavorare con le liste. Questi predicati li dovete, quelli che non sono built-in, i predicati che vedremo adesso in queste unità didattiche, li dovete mettere in una specie di scatola degli attrezzi, sono degli strumenti, sono dei predicati che se non sono built-in li dovete considerare voi e li dovete utilizzare per implementare i vostri, li dovrete molto probabilmente utilizzare per implementare i vostri programmi in prologue. Il primo, il più importante, il più famoso, il più utilizzato programma per, il più importante programma prologue, il più utilizzato che lavora con le liste è il member. Allora, il member lo vedete qui, non dovete scriverlo perché è un predicato di sistema, è un predicato built-in in qualunque interpretazione prologue e il significato ovvio, è un predicato con due argomenti, il significato è che il primo argomento è membro della lista che appartiene che compare nel secondo argomento. Come è implementato? È implementato in questa maniera, è implementato con due clausole, la prima clausola è il tappo della ricorsione, la seconda clausola è la clausola ricorsiva. Allora, un elemento sarà membro di una lista se è la testa della lista, indipendentemente da quella che sarà la coda della lista. altrimenti un elemento x se non è la testa della lista sarà membro della lista stessa se è membro della coda della lista. Quindi non sarà testa però ci sarà una coda della lista x è membro della coda di questa lista. Quindi adesso se noi asserissimo queste due clausole le facessimo consultare in un programma avremmo il comportamento che stiamo per vedere adesso anziché lo rifacciamo se io lancio per esempio il goal goal chiedo se esiste un elemento x che appartenga a questa lista il prologue mi risponde sì c'è un elemento dentro quella lista ed è uno perché ha unificato con la testa di questa lista se io poi dopo provo col fallimento e chiedo se ce ne sono altre mi dirà sì c'è un altro elemento di quella lista in pratica quello che è successo è andato a unificare con la seconda clausola che è andato a vedere se x che aveva unificato con che ora devo unificare è membro della coda della lista la coda al primo passaggio della ricorsione la coda della lista era la lista che aveva come testa Aldo e quindi risponde Aldo se chiedo di nuovo il fallimento mi risponde sì c'è un altro elemento ancora della lista che è punto 1 2 e poi finisce perché questa implementazione del member si accorta che non ci sono poi dopo che siamo arrivati alla lista vuota come coda della lista che attesta punto 1 2 a coda vuota e quindi termina la ricorsione ovviamente lo potevamo utilizzare questo è un utilizzo del member un member generativo nel senso che va a cercare proprio gli elementi della lista potevamo anche utilizzare il member semplicemente in maniera member check e cioè chiediamo se un elemento che è già istanziato fa parte di una lista in questo caso non viene istanziata nessuna variabile il prolog risponde semplicemente yes perché non trova in questo caso Aldo nella testa della lista però unifica con la seconda clausola e Aldo che è unificato con x che va a vedere se Aldo è con la x è nella coda della lista che tornerà quindi qui e va a vedere se è la testa della coda si è la testa della coda della lista perché è la testa di questa sottolista che era la sottolista alla prima ah ci sono altre no se per esempio lanciamo con più istanze di Aldo ci dice si se lanciamo un'altra ci risponde sì perché ha trovato due istanze di Aldo ne ha trovata una qui e una qui va bene questo era il member è il più utilizzato di tutti serve per vedere se un elemento fa parte di una lista possiamo anche provare a lanciarla in un'altra maniera chiediamo se Aldo fa parte di una qualche lista vediamo cosa succede ecco magari torniamo al member e fatevi voi un'idea di cosa può succedere se lanciamo questo magari fermate il video e fatevi un'idea io lo lancio vedete cosa succede che x è una lista sì che ha Aldo come testa se dico chiedo c'è un'altra lista che contiene Aldo sì c'è una lista che avrà una qualche testa che non so quale e una coda che avrà Aldo nella testa ce n'è un'altra sì c'è una lista che avrà un certo elemento nella testa che avrà come coda una lista che ha un certo elemento nella testa che avrà come coda una lista che ha Aldo nella testa ce n'è un'altra sì eccetera eccetera così e così si può andare avanti all'infinito ovviamente fino a quando la RAM del computer si supporterà bene questo era il member il secondo utilizzatissimo programma che fa uso delle liste è il cosiddetto append perché si chiama append non so perché si chiama append ma probabilmente sarebbe più sarebbe stato più giusto tanti anni fa chiamarlo concatenate concatenate con che qui è abbreviato dal professor Blatko è un predicato con tre argomenti che serve per che dichiarativamente direbbe questo che la lista che compare come terzo argomento è la lista che si ottiene giusto apponendo le liste L1 ed L2 esattamente in questo ordine cioè in pratica L3 è il concatenamento di L1 ed L2 tanti anni fa i primi implementatori del prologue chiamarono questo predicato append e con questo nome prediato append compare nella implementazione di molti interpreti prologue come predicato built in e anche lo sbile prologue non fa eccezione per cui quella che vediamo qui è sostanzialmente si chiama conc ma altro non è che la implementazione built in del predicato append e allora come si ragiona come si ragiona in questa maniera una certa lista è può essere sempre vista come la concatenazione di una lista vuota e di se stessa cioè se io prendo una lista vuota e ci appendo una certa lista quello che ottengo sarà la lista stessa questo è il tappo della ricorsione che definisce il predicato append o concatenate più in generale il caso ricorsivo è dato da questa seconda clausola se io ho una certa lista che ha un certo elemento x in testa e una coda l1 e la appendo con un'altra lista l2 quello che ottengo sarà una lista che avrà certamente in testa x perché era la testa della prima lista che sarà concatenata con la seconda ma la coda di questa lista che risulta dalla concatenazione delle due precedenti sarà esattamente ciò che si ottiene concatenando la coda della prima lista con la seconda lista per esempio adesso io dovrei definire quel predicato conc ma non lo faccio perché nello sguile prologue c'è l'append che è esattamente implementato come stiamo vedendo chiedo per esempio di appendere la lista abc con la lista abc con edf otterrò la lista abc d e f potevo però la stessa cosa farla anche in senso check in questo caso mi risponde true ovviamente se ci avessi messo qui una g mi avrebbe risposto false tornando al caso precedente potevamo anche fare una cosa di questo genere qual è la lista che devo appendere ad abc per ottenere abc d e f e il prologue mi risponde devi appendere d e f o potevo fare qual è la lista che devo anteporre alla lista d e f per avere abc d e f g dove è l'errore dove l'errore vabbè la g non c'è ovviamente sbagliato scusate qual è la lista che devo appendere anteporre ad e ed f per avere abc d e f e la lista abc ce ne sono altre no non ce ne sono altre ancora altri usi dell'append un po' più intelligenti qui abbiamo liste tutte dello stesso tipo ma io potevo anche fare un append un po' più articolato cioè in cui gli elementi che vado a concatenare non sono in qualche maniera omogenei cioè vado a prendere una lista che ha un elemento a come primo elemento e poi una lista come secondo elemento un altro un d come terzo elemento e vado a concatenare con una lista che ha una cosa un po' semplicemente leggermente più articolata ma perché gli elementi sostanzialmente sono di natura diversa però il risultato è lo stesso un po' più intelligente guardate cosa succede se io vado a appendere beh prima facciamo L1 L2 L3 cioè non istanziamo nessuna delle tre liste cosa succederà? succederà che mi dice che beh sì io posso concatenare una lista vuota con un L2 e ottengo L2 stessa oppure posso concatenare una lista L1 che ha un elemento e quello che otterrò sarà una lista che ha quell'elemento in testa più L2 e poi posso andare avanti anche qui all'infinito fino a quando mi supporterà la RAM ancora qua che utilizzo un pochino più intelligente potrebbe essere questo qui allora io dico che i mesi dell'anno i mesi dell'anno sono e listo tutti i mesi dell'anno month qui è una variabile perché con la M maiuscola questa viene questa variabile dal predicato uguale è sostanzialmente unificata con una lista che ha 12 costanti dentro atomiche e poi virgola quindi lancio un secondo gol l'append appunto adesso però devo utilizzare la notazione dello svoipro log che la chiama append questo predicato e vediamo un attimo cerchiamo di capire e poi che cosa faccio metto questa lista di 12 mesi al terzo argomento e quindi la lista l3 è già estanziata e dico guarda che questa lista month è il risultato della concatenazione di una certa lista che non so qual è che si chiama before è un'incognita perché è una variabile che comincia per la B maiuscola con una lista che ha come testa maggio e come coda dopo probabilmente vado sostanzialmente a cercare con questo predicato vado a cercare in una quelli che sono i mesi prima di maggio e i mesi dopo maggio perché cosa è successo è successo che praticamente questa lista ha matchato con una lista che aveva i mesi gennaio febbraio marzo aprile in quella sequenza e poi questa era l1 sostanzialmente before questa era l2 l2 aveva maggio in testa e poi era composta da maggio in testa e portano una coda after after era e così dalle mesi successivi a maggio ok vediamo ancora un altro esempio qui abbiamo l1 uguale quella roba la e poi facciamo la pend di l2 z z z coda una coda che non mi interessa il tutto mi deve restituire proprio quella l1 che abbiamo istanziato nel precedente gol in pratica che cosa stiamo facendo stiamo utilizzando l'append per andare a cercare delle sottoliste dei pattern in questo caso andiamo a cercare una sottolista che abbia 3 z che sia costituita 3 z e lo lanciamo e il risultato sostanzialmente è che andiamo a prendere tutti gli elementi una lista che è dagli elementi che precedono il precedono l'elemento la sottolista che vogliamo cercare qui perché abbiamo messo la variabile atomica ma se noi rilanciamo lo stesso gol l'abbiamo messo la variabile muta mettendoci un un l2 ad esempio e ovviamente non poteva essere l2 chiedo scusa l3 abbiamo la possibilità di trovare sia gli elementi che precedono il pattern sia gli elementi che seguono il pattern è sostanzialmente l'esercizio simile a quello che abbiamo visto per maggio però abbiamo girato